Ciao a tutti amici di Drametic, benvenuti in questa nuova puntata, oggi con noi ospite Alessandro Svampa, tantissimo batterista napoletano e ormai marchigiano d'adozione, con una grande esperienza sia nel pop che nel jazz, poi oggi ci racconterà i vari punti diciamo che ci siamo accordati, ci siamo visti un po' di giorni fa, con me quest'oggi mi aiuterà Matteo Moretti, bassista che ci ospita in questo bellissimo studio, l'astronave, iniziamo con Alessandro con il primo punto, da dove vogliamo iniziare? Non lo so, iniziamo dalla domanda che mi hai fatto tu l'altra volta, ti ricordi? Da dove è nato tutto, qual è la cosa che hai fatto partire? Allora la cosa è nata quando avevo quattro anni, cinque anni, mio padre, io abitavo a Napoli insomma in quegli anni che ho abitato a Napoli fino a undici anni e lui quasi tutte le domeniche invitava gli amici musicisti a casa quindi comunque si mangiava insomma così e poi il pomeriggio suonavano e allora diciamo mi univo insieme a loro prendendo i fustini del Dick Sun, quelli di cartone che adesso forse non esistono più, le sedie insomma di plastica, i coltelli, insomma quelle cose lì e cercavo insomma di suonare con loro e un giorno poi mi ricordo che mi portò nella sala prove di un gruppo di amici e sono stato lì tutta la sera ho ascoltato la musica così e a un certo punto poi quando finiscono le prove mio padre diceva beh ok andiamo e io faccio no no io voglio suonare la batteria, lui no 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 andiamo andiamo no no io voglio suonare la batteria insomma come mi sono impuntato fin quando poi non so perché mi colpì la batteria e così riuscì quella sera diciamo a suonarla e poi a maturare insomma il desiderio di suonare la batteria fin quando poi a dieci anni quando ho fatto la comunione chiesi a mio padre me la compi la batteria mio padre no ma che ci fai poi lì come fai a suonarla un arto fa una cosa un arto ne fa un'altra tutta quella indipendenza ma che te frega te l'indipendenza allora sta di fatto che lui non me la comprò non me la comprò ma me la comprò mia nonna materna perché poi il napoletano tu sei un scornacchiato a mio padre sei un scornacchiato insomma voleva che mio padre insomma me la comprasse però è andata così allora mi regalarono questa una jolly meazzi una batteria piccolina con cui poi ho iniziato a suonare per la gioia dei condomi nel palazzo che abitavo a Napoli e quindi che poi appunto da quando da quando mi regalano la batteria l'anno successivo poi mi trasferì a Petriolo qui appunto nelle Marche che ci fu il terremoto e con tutta la famiglia poi abbiamo deciso insomma di venire qua ad abitare insomma nelle Marche quindi lì è iniziato nella bella chiacchierata dell'altro giorno c'è una cosa che mi ha molto colpito e quando ci hai raccontato delle tante esperienze musicali e professionali nel tuo percorso ce n'è stata una che tu ci hai detto che è stata particolarmente importante che effettivamente è stata mi ha colpito molto la tua esperienza nel mondo del liscio perché non ci hai detto sì sì è bella questa esperienza perché perché era il 97 96 97 ero qui insomma già mi capitava insomma di suonare con ospi con congezzisti che venivano tramite Biangerelli che organizzava i concerti e allora tante volte chiamava me tante volte chiamava Massimo Manzi e quindi insomma c'era fermento così avevo voglia di suonare no poi dico ma qui la cosa non si quaglia c'è qualcosa che non funziona allora tanti amici mi dicevano ma tu ma che ci stai a fare qua quindi comunque sentivo il peso diciamo di un'aspettativa delle persone che mi conoscevano diciamo ma che perché non vai a suonare fuori non provi così e allora è stata singolare questa cosa perché sì così mi piacerebbe ma dove vado boh non lo so e poi ho pensato invece ma che cos'è proprio per questo motivo la cosa che non farei mai visto le aspettative delle altre persone nei miei confronti andare a suonare il liscio dico perché per me sarebbe difficile dire questa cosa agli altri Alessandro con chi stai suonando? Con un gruppo di liscio e allora fu lì che praticamente dopo pochi giorni contattai tramite insomma una persona che quando gli dissi di questa mia scelta dopo mezz'ora mi portò una lista con tutti i gruppi tutti i numeri di telefono di gruppi diciamo romagnoli e mi disse guarda che c'è questo gruppo che si chiama Bandiera Gialla che stanno cercando un batterista allora chiamai andai con loro una sera che suonavano mi sembra in Lazio e il capo orchestra a un certo punto mi disse va bene adesso suona no? allora così ho suonato senza sapere un brano così tutto ad orecchio così abbiamo suonato così ho suonato e lui poi non mi faceva comunque scendere dal parco dico ecco sì insomma alla fine alla fine dopo mi siamo a buona mezz'ora mi dice sì ma per me va bene ma tu che ci fai qui? e dico voglio suonare in liscio vorrei fare un'esperienza diversa è stata bella è stata bellissima perché ho sentito di aver rotto ecco delle catene una catena mia mentale un qualcosa che che comunque mi mi bloccava insomma quindi quindi andavo andavo a suonare con con tanto entusiasmo c'era tanto entusiasmo ero il primo a scaricare gli strumenti ero il primo a caricare gli strumenti insomma la gente mi guarda dice ma questo è matto e invece ho vissuto penso ecco un'esperienza proprio entusiasmo la voglia di la voglia di vivere la voglia di suonare la voglia di fare esperienze a prescindere dal genere musicale che oggi poi magari ecco il rischio no o il rischio insomma si tende a insomma a etichettarsi io sono un batterista di io sono cosa io sono io lo so sono un po' titubante ecco su questa cosa qua e quindi bella la musica insomma è certo liscio può piacere non può piacere come come però per me è stato significativo perché proprio ho sentito dentro me stesso questo andare oltre un preconcetto andare oltre un'idea andare oltre comunque ecco quasi tradire un'aspettativa dell'altro no questa cosa che è difficile no però io ho fatto quello che quello che una scelta impopolare insomma sì esatto una scelta una scelta contro tendenza non di moda non di moda che però poi mi ha cambiato la vita mi ha cambiato la vita sì cioè mi ha cambiato proprio l'atteggiamento insomma mentre suonavi il liscio no Alessandro cos'è che pensavi nonostante il tuo background musicale ma è la cosa diciamo sentivo sentivo come come stavo raccontando sentivo fiducia una fiducia una speranza diciamo il desiderio di diciamo di suonare e sentendo che avevo appunto rotto delle delle catene no che mi intrappolavano diciamo in una in un'idea dico tanto prima o poi verrà fuori un qualcosa di bello ci sarà un'occasione per cui così e da lì a distanza diciamo di pochi mesi di tre quattro mesi vengo a sapere della di un provino per grise il musical era appunto il 97 perché serviva un batterista per sostituire l'ele veronesi che era impegnato in una trasmissione televisiva e allora come ho saputo diciamo di questa opportunità contatto l'agenzia Marisa dell'associazione italiana musicisti e dico Marisa mi chiamo Alessandro Svampo sono un batterista abito a Petriolo e ho saputo diciamo della possibilità di fare il provino per questo musical e lei mi dice Alessandro ma tu abiti distante ma come fai a venire a Milano a fare il provino e io dico non ti preoccupare dicono non è la distanza così e allora diciamo così ci accordiamo e mi fa sapere quando ci sarebbe stato il provino e io nel frattempo stavo continuando a suonare con il gruppo di Liscio non ricordo la data insomma non ricordo il giorno del provino ma il giorno prima ero nelle zone mi sembra di Cesena a suonare con questo gruppo vado a dormire alle 4 mi sveglio alle 6 mi sveglio due ore se si vuol dire dormire insomma dopo due ore prendo la macchina prendo l'autostrada per andare al teatro nuovo a Milano e mi ricordo con questo ricordo di guidare la macchina e non riuscivo a prendere le distanze tra la macchina dico oddio 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 andavo a destra a sinistra dico ma come faccio ma chi ci arriva a Milano però ecco c'era il desiderio ecco c'era il desiderio di suonare forse ecco la chiamerei un desiderio semplice di suonare insomma arrivo in teatro conosco lei poi c'era Dino D'Autorio che era appunto il bassista c'era il marito della Cuccarini che gestiva insomma tutta quanta questa cosa ci presentiamo e Marisa eravamo mi ricordo 10-15 batteristi qualcosa del genere Marisa ci dice ragazzi fra un po' inizieremo il provino vi daremo giusto 5 minuti per guardare le parti ok allora stavamo lì a turno ognuno a turno abbiamo dato insomma una sbirciadina e poi è iniziato il provino allora ha iniziato il primo batterista che sono due o tre pezzi insomma così noi eravamo tutti lì ad ascoltare poi un altro batterista lo stesso un altro due o tre pezzi un altro batterista ancora fin quando poi tocca a me allora suoni su una batteria appunto non tua non potevi spostare assolutamente niente quindi questo ecco un'altra cosa che magari dico a tanti ragazzi allievi quando andrà a suonare non vi preoccupate dello strumento cioè non è quello che non vi fa suonare non è quella cosa lì allora mi siedo sulla batteria mi dicono allora suoniamo questo brano qui suoniamo questo brano premesso che il premio consisteva di suonare con nessun musicista tranne che con il click e nel click c'erano delle percussioni e qualche coro di rinforzo qualche arco qualcosa del genere quindi pochissime cose no quindi senza riferimento senza riferimento né basso né chitarra né voci e non c'era assolutamente niente e allora così iniziamo diciamo ok siamo pronti fanno partire il brano inizio a suonare leggo insomma una partitura così e a un certo punto mi cade la bacchetta sinistra e in un attimo dico non mi posso fermare se mi fermo è la fine allora ho continuato a suonare con la mano destra fortunatamente la bacchetta mi è caduta vicino sono riuscito a raccoglierla e ho continuato a suonare a leggere arrivare alla fine del brano così e dico grazie però che è successo che non mi ricordo se forse proprio dirmi ok allora per noi va bene così basta e allora è andata male gli altri ragazzi comunque hanno suonato due tre brani mi hanno fatto suonare un brano solo insomma alla fine come finiscono di ascoltare anche gli altri batteristi si avvicina proprio a Dino D'autorio e mi chiede ci dice ma sei tu il batterista che è caduta la bacchetta e dico sì Dino mi dispiace perché ho dormito due ore e non so nemmeno io come ho fatto stamattina insomma ad arrivare qua in macchina e lui fa no 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 anzi noi abbiamo apprezzato perché sei una persona affidabile mi ha detto no allora dico va magari forse speriamo allora forse non è andata così male insomma mi ha fatto riflettere questa cosa poi mi hanno spiegato dopo questo mi hanno detto abbiamo scelto te proprio per questo motivo perché comunque a prescindere dal fatto di che hai suonato bene ma in più c'era abbiamo abbiamo visto in te una persona affidabile che se succede qualcosa tu comunque vai avanti e spesso dice purtroppo c'è uno spettacolo in cui appunto c'erano delle sequenze c'era un click c'erano dei tempi da rispettare delle cose proprio c'erano e tutte le sede doveva essere in quel modo lì loro necessitavano di una persona affidabile sotto tutto cioè sotto tutti i punti di vista quindi ecco il rapporto magari anche la cosa che vi raccontavo l'altro giorno noi rapporto umano diciamo la relazione che si crea insomma con le persone tante volte ecco noi batteristi ci preoccupiamo tanto della tecnica no dei rulli tutte queste cose qua però trascuriamo poi la cosa fondamentale che è quella appunto se si crea o no la relazione appunto con gli altri e quindi questo il fattore umano e poi non avere quando vai a lavorare non avere troppi grilli per la testa rispettare gli orari se ci sono gli orari di prove magari anche se dopo il concerto hai voglia di passare la serata in un ristorante sì però magari ti limiti non vai a dormire alle quattro e poi alle otto devi partire e poi devi prendere l'aereo per andare in un'altra cioè evitare insomma delle cose quindi io sono stato sempre abbastanza attento a queste cose qui se ti interrompo ringraziamo alessandro perché a proposito affidabilità non è che sta proprio in perfetta forma e ciò nonostante oggi è venuto con noi ci ha fatto che sto svegliato con l'influenza quindi e quindi è importante sottolinearlo se mi è successo anche qui mi è successo mi è successo diverse volte di aver lavorato con la febbre anche a 39 però è così lavoro è lavoro è così bene dopo questa esperienza nel musical professionalmente in che altre produzioni dopo sì è successo questo che ho lavorato con loro per per tre anni fino all'ultima fino all'ultima edizione mi hanno poi riconfermato infatti sono stato felicissimo poi nell'estate del del 99 ho avuto modo di iniziare una collaborazione con De Gregorio anche qua è stata una cioè vivevo ecco in quel periodo vivevo una sorta appunto di uno star bene una fiducia no era quindi anche lavorando nel musical continuavo insomma ad alimentare quella cosa come per dire non sono arrivato da nessuna parte è un lavoro è un'esperienza spero che ce ne siano altre diverse in diversi diciamo in diversi ambiti quindi poi mi è sempre piaciuto suonare diversi stili insomma quindi dal jazz appunto dal jazz al pop insomma e ultimamente sto riapprezzando tantissimo c'è una musica musica classica che è bellissima e insomma alla fine in quei tre anni col musical insomma vado avanti così e a un certo punto dico qua qualcos'altro c'è nell'aria no sentivo questa è lo stesso una una fiducia e mi ricordo che che un giorno andai partì da roma per andare ad una festa a a Sant'Elpidio a festa con parecchi amici mi chiesono di portare la batteria e dico sì sì vabbè porto la batteria magari suoniamo un pochettino così e allora arrivo lì a Sant'Elpidio era in una sembra la risacca forse adesso non mi ricordo in un camping allora montiamo questa cosa tutta la giornata allora stiamo lì c'erano poi delle conferenze insomma cose del genere telefono spento telefono spento tutto il giorno la sera inizio a smontare la batteria la porto in macchina e sembrerà assurdo come finisco di caricare la batteria in macchina prima di chiudere lo sportello accendo il telefono e dico adesso mi chiamerà qualcuno così come accendo il telefono mi chiama il chitarrista di De Gregori che già conoscevo tramite i rocasciulli mi dice Ale che c'è dice guarda ci sarebbe possibilità di venire a suonare con De Gregori e io sto lì stai scherzando uno scherzo no? dice no 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 è vero ti passo il produttore Guido con gli elminetti no mi ha passato Guido ho parlato ho parlato con lui e insomma mi ha spiegato un po' tutta quanta la cosa e così sono andato insomma Francesco aveva già la band in quell'anno no? e aveva una ritmica francese ma di colore camerunense penso due jazzisti bravissimi ma il problema è che il bassista magari delle regole rispettava il batterista no quindi durante le prove lo stesso pezzo una volta lo faceva una velocità una volta un'altra una volta entrava in un punto una volta entrava in un altro insomma era quasi era molto random e De Gregori un giorno non ce l'ha fatta più ha chiamato Mimmo Locasciulli un altro cantautore con cui io stavo lavorando in quel periodo un cantautore nato al folk studio insieme appunto a De Gregori e via dicendo dice Mimmo io ho bisogno di un batterista perché non ce la faccio più e allora Mimmo dice guarda io sto lavorando con Alessandro e non lo so ti do il numero magari così e infatti la telefonata arrivò per questo e Francesco accetta insomma questa cosa ecco quindi quella sera mi chiamarono per dimmi questo insomma mi accordai ad andare a Forlì mi sembra da quei posti stanno facendo stanno facendo allestimento del tour allora arrivo e mi danno le registrazioni delle prove e mi dicono guarda dobbiamo fare una cosa tu ti porti a casa il materiale ascolti i brani sappi però che lui fa entra e fa un po' come vi pare quindi devi tu capire com'è diciamo l'andamento dei brani noi facciamo la prima data con lui a Monza dopodichè abbiamo due o tre giorni liberi ci incontriamo facciamo le prove e poi riprendiamo il tour con te allora vado a casa avevo pochissimi pochissimi giorni c'erano tipo due o tre giorni scrivo le parti insomma così e così facciamo poi andiamo in Umbria a casa di De Grover a fare le prove e io ero molto emozionato insomma per la batteria in macchina allora insomma arrivo lì la mattina montiamo gli strumenti conoscere un artista insomma di spessore che comunque parliamo parliamo di un artista che ha scritto canzoni bellissime e allora si monta mangiamo qualcosa poi nel pomeriggio iniziamo le prove così ero da una parte ecco dico mamma mia e dall'altra parte c'era sempre questa voglia di suonare e allora lui ha percepito ha percepito questo aveva visto che poi aveva scritto le parti aveva interpretato i brani seppur il battista aveva fatto cose diverse quindi aveva interpretato i brani in una certa maniera e dopo un po' dopo tipo un'oretta dice va bene ragazzi ok per oggi è a posto andiamoci a fare un bagno in piscina ci troviamo domani insomma se era così rilassato anch'io insomma mi sono rilassato però stai sempre un po' così quindi ecco c'è un filo conduttore no sin da piccolino questa la voglia si la voglia fondamentalmente la voglia di suonare voglia di fare esperienze nuove diverse poi non sapendo con chi andrei a conoscere con chi andrei a suonare quindi è tutto un punto interrogativo e allora tante volte non è facile no tante volte non è facile accettare delle cose che dico dio dio ma questo non lo conosco no preferisco di no nella vita tante volte uno prende delle strade alternative ma poi comunque devi ritornare sulla strada principale insomma e quindi sì e dopo abbiamo fatto quel tour quell'anno finito a settembre poi chissà cosa succederà e lui mi ha continuato a chiamare insomma ho continuato a lavorare con lui per otto anni poi lì decisi invece dopo otto anni lì ho preso una decisione molto molto tosta e anche pensata per tanto tempo e alla fine ho deciso insomma di lasciare quella cosa e poi ho iniziato a lavorare in televisione con l'orchestra di Pirazzoli e a fare un'esperienza comunque diversa ecco se no avrei comunque continuato a lavorare con lui perché comunque poi il nucleo è rimasto è rimasto quello e quando poi De Gregorio è venuto un po' di anni fa l'ultima volta ai migliori anni a trasmissione dopo le prove appunto ci siamo salutati così e mi ha detto dice guarda io ogni volta che suono con te mi sento a casa no e questa cosa mi ha fatto piacere perché anch'io quando quando suonavo appunto i suoi brani e quando magari in tre seconde ricapita diciamo di risuonarli mi piacciono quindi sicuramente sono brani semplici alcuni apparentemente semplici però bello insomma anche lì si era si era instaurata una relazione ma poi immagino per te carichi di un significato maggiore proprio dato da questa esperienza da questi otto anni passati insieme quindi immagino che abbia avuto anche nel risuonarli oggi tu possa essere felice di suonarli anche per tutto quello che c'è in più si 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 è stata un'esperienza sentita ecco un lavoro un lavoro però forse va c'è qualcos'altro ecco c'è stato penso qualcos'altro sicuramente e un'altra esperienza che hai avuto appunto quella tutta la serie di lavori che hai fatto in tv per programmi televisivi perché non ci parli di questa esperienza? si questa è un'esperienza totalmente diciamo totalmente diversa bella mi ricordo quando appunto decisi di lasciare dei Gregori era il 2007 e mi chiamarono per suonare il programma notti sul ghiaccio quello con la Carlucci e quella fu la mia prima esperienza con un'orchestra televisiva perché poi con De Gregori andavamo spesso in televisione e suonavamo poi sempre dal vivo insomma lui ci teneva a questa cosa e lì un'altra esperienza nuova perché chi mai appunto mai mai fatto un'esperienza mai fatta e mi sono trovato in una situazione in cui poi con la Carlucci che voleva farsi cioè ci faceva suonare e tuttora nei suoi programmi ti fa suonare qualsiasi tipo di stacco e stacco allora facciamo lo stacco entrato concorrente e poi il brano del concorrente stacco uscito del concorrente e poi c'è la lavagnetta fate il suonino per la lavagnetta io mi ricordo che poi erano tre ore e mezza tre ore e mezza di diretta e per terra c'era praticamente un pavimento tappezzato di partiture e poi dovevamo stare attenti perché c'era una gara quindi non è che la partitura la potevi buttare via così ormai abbiamo suonato questo brano non lo suoniamo più andavano messi in ordine dico adesso come li metto dico aiuto aiuto non so che cosa fare no e cercavo di il modo insomma per non perdermi le parti e quindi una diciamo una un'esperienza bellissima bellissima io mi sono divertito perché per tanti anni con De Gregorio appunto avevo suonato i suoi brani esperienza bella ma sentivo anche la necessità insomma di di esperienze nuove ecco sentivo diciamo qualcosa qualcosa da cambiare che poi spesso e volentieri dico questa cosa visto che poi magari tanti ragazzi giovani e anche i meno giovani ci sentono spesso si cambia qualcosa di esterno a noi no e che è più difficile cambiare qualcosa dentro noi stessi dopo anni dopo anni penso che in quel caso ho cambiato qualcosa che non tornava a me quindi cambiando il lavoro ok cambio questo seppur mi trovo bene vado a fare qualche altra cosa negli anni poi invece mi sono reso conto che c'era qualcosa in me che andava diciamo rivisto e questo è un consiglio che do a tutti essendoci passato di rifletterci quando tante volte no se vogliono cambiare le cose che funzionano chissà perché e poi si scelgono altre cose poi belle lo stesso però è un consiglio insomma di porsi delle domande insomma quantomeno di non dare sempre la responsabilità agli altri perché comunque è più facile colpa tua è colpa tua no questo non va bene no non sono bene no la batteria non è la mia le cose classiche no diciamo di chi sono la batteria e quindi ritorno all'esperienza esperienza bellissima nuova perché appunto lì suonavamo brani di qualsiasi genere insomma dai brani pop di musica legge italiana ai brani swing al cha 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 insomma cose latine e quindi è stata una diciamo una boccata d'aria è un'esperienza che poi mi è piaciuta l'anno successivo poi è venuta fuori l'occasione invece di lavorare con l'orchestra di Pinuccio Piriazzola il maestro e ho accettato volentieri perché è un'altra cosa che mi piace insomma quindi è difficile non è facile è una cosa non facile perché quando si prepara una puntata che poi è tutto live tutto dal vivo insomma e noi non penso che siamo forse tra le poche orchestra che non usiamo sequenze quindi che suoniamo tutto quanto tutto live e allora c'è una c'è una lunga preparazione la puntata di solito il venerdì sera noi iniziamo a provare dal martedì pomeriggio tutti i pomeriggi martedì il mercoledì il giovedì e anche il venerdì delle volte facciamo le prove quindi c'è comunque ci sono tante tante ore di lavoro e gli artisti che alcune volte si lamentano del fatto che i brani non possono essere eseguiti per la loro lunghezza vanno tagliati per esigenze televisive e quindi bisogna rispettare il tempo di un minuto e quaranta due minuti e allora qualcuno no 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 io non voglio che si tolga questa parte no no allora noi stiamo lì a suonare il maestro no no ragazzi dovete togliere da misura 9 a 18 allora noi quella mattina con una bacchetta suoni no 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 ricambiamo da misura 23 a 20 insomma è tutto così ma fino al pomeriggio mi ricordo un aneddoto è un'altra aneddoto venne venne Gigi D'Alessio un po' di anni fa non facemmo le prove per niente cioè quasi per niente venne il pomeriggio del venerdì prima della diretta ok ragazzi proviamo sì abbiamo così le prove così una volta abbiamo provato i pezzi e poi siamo andati in diretta chi mi fa il segno della croce poi sì c'è insomma c'è un lavoro ecco anche lì è multistilistico suoni suoni tanti stili bisogna stare belli sereni tranquilli perché appunto tante volte si cioè sono più le volte che si cambia che poi le cose che rimangono nello stesso modo insomma quindi serve anche lì secondo me un'attitudine insomma è ti deve piacere perché se uno studia vuole studiare magari pure ho dieci anni a casa per voler fare un tipo di esperienza così se non ti piace non ci riesci perché poi questa cosa chi suona con te lo sente e dice ma sì puoi essere bravissimo però c'è qualcosa che comunque non funziona capito quindi diciamo ecco forse il filo conduttore insomma di oggi è questo penso che se non c'è la fine il desiderio insomma la voglia di suonare che deve essere una semplice cosa ma non suono perché dopo guadagnerò sono famoso tutte queste cose qua quelle sono cose che è meglio secondo me lasciare da parte finché uno riesce una mattina ad alzarsi e sedersi sullo strumento senza discorso di aspettative che dicevo prima quel peso di aspettative degli altri ma delle tue stesse aspettative che non ti permettono di approcciare allo strumento e alla musica in maniera serena ti alzi la mattina se inizi a pensare oddio oddio ora faccio questo perché così faccio io da quest'altro che riesco a fare questa cosa perché dopo attraverso questo posso arrivare là e fare no se riesci ad alzarsi la mattina a suonare va bene se ci sono questi pensieri non va bene e quindi diciamo che ai ragazzi più giovani ecco lo sconsiglio cosa che dico anche ai miei allievi al conservatorio ragazzi lasciate perdere pensieri strani abbiamo la fortuna in questa vita di suonare che non è poco e la musica è una cosa meravigliosa allora godiamocela per quello che è e poi come si fa ad arrivare come si fa ad arrivare dico ma perché esiste solo l'arrivare l'arrivismo perché dico non c'è essere essere è un semplice suonare un semplice suonare perché a che cosa serve però certo lo dico lo dico oggi dopo tanti anni di diciamo di di esperienze ci sono caduto anche io in quelle cose ecco per cui oggi magari parlo in questo modo però non serve ecco non serve finché c'è c'è una certa semplicità poi le cose funzionano quando si iniziano a pensare cose strane invece dopo non non funziona più niente non c'è più musica bene dopo quindi averci raccontato che questa questa esperienza in televisione siamo giunti ai ringraziamenti finali ringrazio tantissimo Alessandro per essere venuto grazie a voi nonostante la febbre per averci raccontato queste esperienze di vita importantissime e spero siano state importanti anche per voi che avete eseguito questa intervista e ringrazio Matteo per avermi aiutato in questa intervista e per averci ospitato nel suo studio grazie a tutti amici alla prossima puntata ciao 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 ciao